C'è tempo fino a martedì 28 per andare presso lo studio di Andrea Maestri a Ravenna per sottoscrivere la denuncia per apologia del fascismo in merito ai fatti relativi a dettore Muti. Forza Nuova, infatti, nella notte tra giovedì e venerdì, ha dedicato un tratto di via di Roma a Ravenna al gerarca fascista Muti. Per Maestri, avvocato ed ex parlamentare, non si tratta di libera manifestazione del pensiero, ma di apologia del fascismo, tafferugli e contestazioni, poi domenica al cimitero di Ravenna per la commemorazione del gerarca. Perché in questa situazione relativa a Ettore Muti si parla di apologia del fascismo? Beh, viene chiaramente violata una norma prevista dalla legge Scelba, l'articolo 4, che vieta la pubblica esaltazione di esponenti del 18 partito fascista. La legge Scelba è una legge del 52, che dà diretta applicazione alla dodicesima disposizione finale della Costituzione, che vieta la ricostituzione sotto qualsiasi forma del 18 partito fascista. Ettore Muti è stato un gerarca fascista, è stato addirittura segretario nazionale del partito nazionale fascista, si è macchiato di numerose azioni squadristiche, e quindi il fatto rivendicato da Forza Nuova di Ravenna di avere intitolato simbolicamente a Ettore Muti, quindi ad un gerarca fascista, una strada importante di Ravenna come via di Roma, è un fatto penalmente rilevante.